Oggi vi voglio parlare di tre donne, tre donne che hanno fatto carriera, una carriera brillantissima e che hanno richiamato un po' l'attenzione della cronaca per le loro gesta. Partiamo dalla prima, giochiamo in casa, si chiama Samantha Cristoforetti, la conosciamo tutti molto bene, una persona deliziosissima, un astronauta, che sarà la prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale e sarà la terza donna al mondo dopo due americane. Questo accadrà nel 2022 quando ci sarà una nuova spedizione, una nuova spedizione in orbita e l'Agenzia Spaziale Europea ha annunciato questa novità. Naturalmente con il suo solito stile, con la sua umiltà, Samantha Cristoforetti ha detto che era onorata di questa nomina a comandante della Stazione Spaziale Internazionale ma soprattutto ha detto che ritornare sulla Stazione Spaziale Internazionale per rappresentare l'Europa è un onore di per sé. Perché dice lei, non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto competente in orbita. E questa è una cosa bellissima, cioè avere un incarico così importante, cioè terza donna che comanda una squadra sulla Luna e che dice sì posso portare la mia esperienza che ho avuto in passato nello spazio e sulla Terra. Mi piace tantissimo e lo dico da uomo apprezzare questa umiltà. Allo stesso modo mi ha colpito il diversivo che è stato definito dalla stampa singolare di due commissarie europee rispettivamente alla concorrenza e agli affari interni. Queste due signore, Margrethe Vestager e Ilva Johansson, hanno in qualche modo sbaragliato i cronisti quando soprattutto sui social network si sono diffuse delle immagini che le vedevano ritratte mentre durante le riunioni di lavoro si dilettavano a sferruzzare e a fare lavori agli uncinetto. Quindi tutti hanno pensato ma è una distrazione e invece no perché entrambe hanno spiegato che loro fanno delle cose rigorosamente a mano e che le regalano ai loro collaboratori più bravi. Insomma uniscono l'utile e al direttevole mentre ascoltano attentamente durante le riunioni quello che si sta dicendo sotto la scrivania loro continuano a fare l'uncinetto. Perché a differenza di noi uomini le donne sanno fare più cose contemporaneamente e questa è una cosa che noi maschietti prima o poi dovremo capire.